ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi nuovo video e come potete vedere questa qui è una copertura su unghie naturali di questa mia cliente e lei ha scelto questo bellissimo colore che si chiama fucsia fluo di passione unghie e nell'anulare invece andrò ad applicare della polverina semplice normale glitterata un rosa un po più chiaro di questo bellissimo fucsia e ovviamente sempre due passate come al solito per renderlo ancora più coprente il colore che mi piace veramente veramente tanto coprente e niente poi la fine ultra gloss di passione unghie e l'olio cuticole io spero che il video vi piaccia se sarà così metterete un pollice in su se volete mi commentate io vi lascio il video e noi ci vediamo alla prossima un bacio ciao 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 ciao